carissimi è arrivato finalmente il momento di imparare l'esercizio della matita fatemi vedere la matita tutti quanti forza matita matita ecco l'esercizio fondamentale della matita tra i denti per imparare ad allenare la nostra articolazione attenzione però attenzione ai falsi profeti attenzione ai falsi guru che girano sul web attenzione a coloro che non conoscono l'esercizio della matita e che si limitano soltanto a ripetere cose che hanno imparato male da qualcun altro che sapeva male l'esercizio della matita e che quindi continuano a ripetere male tutte le persone poi che vengono da me e hanno già fatto l'esercizio della matita non hanno avuto risultati perché perché io ho sperimentato personalmente come si fa l'esercizio della matita per farlo proprio in maniera utile cioè l'esercizio della matita come lo suggeriscono gli altri che potrete vedere anche sugli altri canali youtube gli altri vi spiegano soltanto una cosa mettetevi la matita tra i denti e parlate così secondo voi che cosa abbiamo risolto a parlare così niente perché che succede che quando ci abbiamo la matita tra le labbra e quindi ci limitiamo a cercare di farci capire ma non facciamo altro che mangiarci la matita per cercare di farci capire per quello che sto dicendo e quindi mastichiamo la matita stiamo facendo uno degli errori più proprio il peggiore che dobbiamo proprio evitare perché quando noi articoliamo bene mi raccomando dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla mascella e sulla mandibola perché dobbiamo imparare ad articolare abbiamo detto nelle altre lezioni dobbiamo imparare a utilizzare sia le labbra ma anche dobbiamo aprire la bocca se invece la campana la copriamo il suono non esce pulito per poter avere il suono pulito le labbra devono aprirsi anche la bocca deve aprirsi ma come fa ad aprirsi la bocca la bocca si apre se noi utilizziamo bene la quindi attenzione perché dobbiamo in questo momento concentrarci su due fattori per migliorare l'articolazione l'esercizio della matita serve per esercitare questa zona così orizzontale quindi noi eserciteremo le labbra sostanzialmente e gli angoli della bocca questa zona qui la eserciteremo con la matita però poi avendo la matita tra i denti non riusciremo ad esercitare questa parte qui che è fondamentale quindi come faremo ci toglieremo la matita e impareremo a leggere sillabando ma questo è un esercizio che poi vi spiegherò la prossima volta adesso concentriamoci però sulla matita dove vi ripeto ci eserciteremo su questa ginnastica facciale che comprende le labbra e tutta la zona orizzontale quindi per mandibola e per mascella dobbiamo rimandare il tutto alla lettura che poi vi spiegherò che si fa sempre con in sillabe ad alta voce ora esercizio della matita allora esercizio della matita tra i denti come come tutti sappiamo dobbiamo metterci la matita tra i denti è sembra facile però dobbiamo specificare cioè che significa mettersi la matita tra i denti significa posizionarla attenzione questo è il mio modo di fare l'esercizio della matita perché io l'ho sperimentato su di me e questo mi porta mi ha portato mi porta e vi porterà ad avere dei risultati la matita va sistemata tra i denti esattamente tra gli incisivi e i canini quindi così incisivi subito dietro gli incisivi lasciate uno spazzetto davanti e quindi vediamo se la posizione è corretta e lo vediamo insieme ai miei allievi federica apri il microfono parla un po con la matita in bocca apri il microfono ecco ciao a tutti ho la matita in bocca ok non la stringere perché adesso ti dovrò dire un passaggio fondamentale mi serve però che mi fai vedere la di profilo come c'hai la matita perché dobbiamo avere la matita subito dietro gli incisivi parla un attimo ciao a tutti benvenuti a questa lezione perfetto ok benissimo quindi c'hai la matita tra i denti mi raccomando non masticarla adesso rita rititi anche tu di profilo che parla un pochettino ecco ho messo la matita ce l'hai troppo dietro troppo non è questo è subito dietro gli incisivi parla così va bene hai lasciato un po di spazio qui ok allora ok ok appena 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 esatto perfetto bravissima isabella apri il microfono mettiti di profilo parla un pochettino di profilo senza stringere cioè la matita deve essere tra i denti ma non dobbiamo masticarla non dobbiamo addentarla nel senso non dobbiamo mangiarcela la matita è tra i denti stretta quel tanto che basta per non farla cadere ma non dobbiamo mangiarla ok adesso fammi vedere di profilo ho la matita tra i denti e sto cercando di non stringerla bravissima qua c'è spazio gli incisivi sono più avanti rispetto alla matita e ti il dito no è stranissimo no in che senso dritti la matita deve stare dietro gli incisivi ok affetto vedete di profilo no ora quelli sotto davanti è successa una cosa stranissima prima devo sentire ecco leggermente ok bene così così parla un po parla un po parla un po di profilo si cercherò di tenere la matita tra i denti senza stringerla e senza farla cadere benissimo bravo a porfino bene così ricordati la posizione poi la cara laura matita tra i denti ok parla un po di profilo laura isabella escluditi buonasera a tutti aspetta laura troppo di profilo troppo di profilo ok meglio buonasera a tutti ok c'è lo spazietto qui e raccomando come stai facendo non addentarla perfetto adesso giovanni apre il microfono eccomi allora ho messo la matita in bocca aspetta che si allora dammi conferma che c'è uno spazietto davanti parla lentamente ora ho messo la matita in bocca e sto parlando parlando lentamente però stai stringendo un po troppo la mandibola mi sembra ok puoi parlare più morbidamente cerco di parlare più morbidamente ok perché non devi mangiare la matita d'accordo ok perfetto bravo adesso chiediamo tutti i microfoni e vi spiego quali sono i passaggi fondamentali che dobbiamo rispettare l'abbiamo detto quindi matita tra gli incisivi e i canini dietro incisivi lasciamo uno spazio avanti cosa succede appena mettiamo la matita in bocca succede subito un fenomeno stranissimo che poi molto spesso ci fa odiare l'esercizio della matita e cioè la nostra salivazione diventa accelerata troppo accelerata cioè sentiamo proprio la saliva che sale diventa proprio la bocca piena di saliva perché è un po come se quando come se andassimo dal dentista vi sarà capitato cosa succede che quando andate dal dentista la saliva le chiandoli salivari continuano a produrre saliva però avete l'aspiratore che aspira la vostra saliva quando andate dal dentista invece adesso voi non ce l'avete dovete essere voi ad aspirare la saliva so che vi fanno poco schifo però non vi preoccupate bisogna fare esattamente così ma la saliva è vostra non è di nessuno quindi non vi farà non vi deve fare schifo fate questo perché significa tenere la bocca non impastata perché poi quando dovrete parlare con la matita rischiate poi di avere troppo troppa saliva e quindi non vi escono bene le parole quindi attenzione vi dico anche un'altra cosa importante che all'inizio questa salivazione è molto accelerata perché è come se il vostro organismo non è abituato la vostra bocca rifiuta i denti la bocca ma soprattutto la lingua rifiuta questo oggetto estraneo e di conseguenza cosa succede che si produce questa saliva in più proprio perché è un modo per un repellente in realtà più farete l'esercizio della matita e più vi abituerete a non salivare così tanto questo ve lo do per certo quindi più fate l'esercizio della matita e più avrete meno questo problema ok perfetto andiamo avanti adesso abbiamo detto quindi matita tra i denti attenzione salivazione accelerata ok e dobbiamo delicatamente cercare di tenere comunque la bocca asciutta per qua umida ma non impastata attenzione mai stringere la mandibola mai contrarre mascella e mandibola non è non è come addentare una liquirizia non è come addentare un panino ma è semplicemente spoggia tenere la matita tra i denti leggermente per evitare di farla cadere ok quindi accorgimento fondamentale non stringete non dovete mangiare la matita tenetela stretta tra i denti ma non mangiatela evitate di fare questo perché ricordatevi che la nostra tutto ciò che facciamo nella nostra vita è regolata da due forze il piacere e il dolore noi per natura inseguiamo sempre il piacere perché non ci piace fare la dieta perché non ci piace andare in palestra perché andiamo perché dobbiamo farci forza nel fare certe cose perché queste cose ci provocano dolore perché noi siamo fatti per cercare sempre il piacere ora se anche in questo esercizio della matita voi provate dolore questo esercizio non lo farete con piacere invece deve essere esattamente il contrario allora imparate a fare l'esercizio della matita senza farvi male senza dolore perché il dolore viene se voi stringete forte la matita e cercate di parlare stringendo tantissimo e contraendo mascella e mandibola a un certo punto vi verrà un dolore qui una sensione molto forte questo provocherà in voi un dolore che non sarà abbastanza accentuato certo non dovete ricorrere alle cure del dottore però comunque questo questa tensione fa male e il fatto che voi proviate dolore vi impedirà di fare questo esercizio con piacere e quindi non lo farete assiduamente come invece dovete farlo poi dovete provare piacere nel fare questo esercizio perché è un gioco questo è il gioco della matita le regole del gioco ve le sto spiegando e voglio dirvi la regola più importante che io ho adottato in questo esercizio quello che sbagliano tutti è che quando fanno l'esercizio della matita parlano con la bocca stretta e con le labbra così io sto provando a parlare adesso facciamo una piccola intervista a tutti quanti e vediamo come parlate con la matita senza che vi dico nulla ok allora rita per esempio apriti il microfono cara rita ciao da luca bene come stai rita tutto bene sì per il momento è tutto ok ok mi potresti dire quale sarebbe per esempio il paese che ti piacerebbe visitare qual è il se tu potessi viaggiare dove vorrei piacerebbe molto andare a praga a praga perché perché ho visto un documentario con delle bellissime immagini e mi ha incuriosito ok perfetto bene sì ottima scelta già non riesco a dire la s e lo solo adesso ci arriviamo non la riesco a dire lo so ma attenzione ci arriviamo escludi un attimo micro allora adesso che è successo rita quando io quando tu hai parlato poi rivedrai la registrazione tu hai esercitato abbastanza bene il movimento con la bocca perché comunque hai articolato soprattutto nel nel verso l'esterno cioè ti ho visto molte volte fare questo che va bene quello che deve evitare per questo perché qualche volta hai parlato anche così questo è naturale perché non sai ancora non conoscete le regole del mio esercizio della matita che consiste nel tenere le labbra distanziate dalla matita ok quindi labbra ben distanziate dalla matita sempre per avere valore questo esercizio giovanni provaci pure tu dovete avere sempre le labbra distanziate dalla matita quindi quando parlate dovete sforzarvi di lasciare le labbra distanziate ci saranno però delle consonanti ovviamente che vi obblicheranno a chiudere le labbra dovete per forza chiudere va bene chiudete le labbra ma subito dopo come una molla riaprite le labbra e tornate nella posizione del sorriso quindi ma va ve ok quindi pronunciate voglio voglio dovete tornare nella posizione veramente veramente ecco in questa parola è contenuta la r che è una delle consonanti più difficili da pronunciare con l'esercizio della matita allora abbiamo detto l'esercizio per poterlo fare bene dobbiamo ricapitolare mettere la matita tra i denti dietro gli incisivi non stringere con la mandibola quindi lasciare la matita tra i denti stretta ma senza mangiarla poi dobbiamo tenere le labbra ben distanziate dalla matita sempre quando siamo costretti a congiungere le labbra per pronunciare certe consonanti naturalmente lo faremo però poi torneremo magicamente come una molla nella posizione del sorriso questo è l'unico modo per esercitare veramente i muscoli facciali perché se noi parliamo tutto il tempo con la matita così che esercizio facciamo? nessuno è questo l'esercizio cioè muovere le labbra il più possibile mantenendo la distanza tra le vostre labbra e la matita quindi mai questo ma sempre questa ok benissimo adesso troverete sicuramente due problemi importanti uno Rita l'aveva già sottolineato la S in realtà le consonanti che vi creeranno più problemi nel parlare con la matita sono sia la S che la R però l'esercizio della matita è un ottimo esercizio soprattutto per quelle persone che hanno una S un po' strana o che hanno una Z un po' strana e fondamentale per quelle persone che hanno la R un po' come si dice la R alla francese la R moche perché la R la lingua non vibra e quindi dobbiamo seguire degli accorgimenti che adesso vi spiegherò quindi come facciamo a dire la S a diciamo prendiamo una parola sasso sasso è chiaro che non sarà una S pulitissima però non sarà neanche sasso 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 cosa faccio? la matita diventa un ostacolo per la lingua quindi la lingua va a sbattere contro la matita perciò sasso 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 perché dobbiamo fare in modo sasso sasso quando la lingua va a sbattere contro la matita scendiamo giù sasso quindi troviamo un modo per arcuare la lingua e tenerla farla passare sotto la matita anche se la tocca però deve passare sotto sasso sasso non sarà mai precisissima però almeno sappiamo qual è il movimento giusto cioè il suono sarà sempre un po' limitato però comunque l'importante è che facciate il passaggio giusto quindi mi raccomando sasso sasso sassari ok asso passate sotto poi cerchiamo di risolvere l'altro problema che è quello della r la r per esempio ruggiero 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 proviamo a dire la r rita prova a dire la r tu prova a dire ruggiero 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 ok non è male non è male la tua r ok adesso Isabella dimmi qualche volta ruggiero 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 brava la tua r è molto buona bene Laura ruggiero più volte ruggiero 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 sì la r va bene non mi piace però la g ruggiero ruggiero ok ora mi funziona ok bene la r funziona poi Giovanni ruggiero 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 ok federica ruggiero bravissimo ruggiero bravo allora tu e Isabella ci avete la r più chiara di tutti perché cosa fate perché già siete voi barate perché già siete avanti voi eh già avete fatto no io non l'ho mai fatto non l'ho mai fatto no no ma tu eh ma tu sei tu però tu sei toscana è tutto quello che ti porti allora è il dna il dna no è quello è il sommo poetadante ah sì 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 che ti ha è nel tuo è nel tuo dna perché il sommo poetadante nel nel 1200 che cosa fece è il la divina commedia che è diventa nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita ai ai dir cos'è cosa ecco questa è sta selva selvaggia e aspra che a dire vabbè vabbè solo questo sappiamo c'è gente che lo sa ti ricordo questo certo certo vabbè ma è per fortuna che ce lo ricordiamo c'è gente che non sa neanche qualcuno che ci sta seguendo ebbene sì che ho studiato all'università tutto l'ho dovuto fare bello professor Acelli mi pare che si chiama va bene no ma io ho fatto inferno purgatore e paradiso quindi ho fatto tutte e tre però dei tre il più bello secondo me è l'inferno e vabbè certo perché è quello più intrigante più interessante poi ci ha messo più anni per farlo va bene allora detto ciò l'esercizio della matita le regole sono ben chiare la R vi stavo spiegando la R per chi abbia problemi per chi ha problemi con la R e non riesce dice in generale queste persone hanno già un problema con la R tutti voi che avete parlato con la R non avete nessun problema e l'avete detta bene e molto bene Federica e Isabella che hanno già una buona articolazione di base però ok per poter superare comunque il problema della R con la matita ricordiamoci sempre è un buon esercizio per tutti che quando diciamo la R la lingua vibra se la lingua non vibra diventa quando la matita che è una è una barriera quando la la lingua va a sbattere contro la matita non riesce a vibrare e allora dobbiamo trovare un modo per tirare indietro la lingua quindi tiriamo indietro la lingua e in questo modo l'articolazione sarà sicuramente più facile da poter da poter pronunciarla bene questa R è ruggero va bene ok bene adesso facciamo un ultimo giro per facciamo le interviste impossibili per cui io vi farò delle domande ovviamente inventiamo siete liberi di inventare eccetera eccetera e parleremo con la matita cosa bisogna fare altra regola del gioco bisogna parlare lentamente lentissimamente con la matita è vietato correre con la matita perché se no l'esercizio non serve a nulla quei geni che vi dicono trentasettantini alzare l'anno ma che? cioè noi dobbiamo cercare di dare a ciascuna consonante e vocale ciascuna sillaba dobbiamo dargli la giusta importanza e dobbiamo parlare quasi come se stessimo pronunciando sillabando le parole quindi dobbiamo in gergo si dice il termine giusto è compitare compitare cioè dividere le parole in sillabe ora proviamo a fare le nostre interviste impossibili allora Federica Federica ci sei? eccomi ok adesso domanda cara Federica anche tu se potessi viaggiare dove te ne andresti di bello? ma guarda devo dire che ecco più lentamente ma guarda devo dire che ho la stessa idea di Rita vorrei andare a Praga perché ho visto la casa le immagini della casa danzante la casa danzante la casa danzante è una casa che per come è stata architettata sembra in movimento in realtà è ferma va più piano però va più piano sembra in movimento ok ok in movimento esattamente ok ok e questa dove l'hai vista? l'ho vista in un giornale e e mi ha molto incuriosita benissimo e a questo punto grazie brava che stai parlando lentamente grazie a te bene adesso Rita ma a sto punto che perché non te ne vai in viaggio con Federica così risparmiate vi prendete una bella stanza tutte e due non è male come idea ecco e qui sarebbe veramente bellissimo sarebbe sarebbe con l'aria aperta sarebbe veramente bellissimo ok ok mi raccomando parlate al rallentatore perché questo perché ogni volta che pronunciate una sillaba quindi una consonante specialmente una vocale la vostra bocca deve posizionarsi il più possibile distante dalla matita dalla labbra ok fatelo lentamente laura adesso tocca a te dove vuoi andare anche tu a praga no io ancora ancora più lontano completamente dall'altra parte completamente dall'altra parte del mondo bene e quindi dove è una destinazione segreta in australia ah che bello vuoi vedere i canguri voglio proprio vivere là ah vuoi vivere in australia ottimo allora ti veniamo a trovare poi va bene ok vuoi vivere in australia perfetto bene laura e mi dici un monumento dell'australia che vorresti vedere ce ne sono due tre famosi giusto ti ricordi come si chiama la montagna quella rosa particolare che se la ricorda ecco ma finì in australia non sai come io andavo proprio nella ah tu volevi andare direttamente proprio nella per andare a via ah per andarci a vivere cioè vabbè poi non ci sta non ci sta ci sta nella parte selvaggia nella parte selvaggia ok perfetto nella parte selvaggia benissimo grazie allora chi è invece adesso che vuole andare con laura in australia comunque si chiamava l'uluru mi raccomando è il più imponente massiccio roccioso australiano uluru eh lo faccio vedere dai così mi viene voglia a tutti di partire questo è uluru vedete questo è bellissimo questo uluru proviamo a dire tutti uluru 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 eh ma aprite il microfono uluru con la r uluru 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 castello castello ululì castello ululì lupo ululà lupo ululà castello ululì castello ululì lupo ululà famosa battuta di frankenstein junior ok perfetto detto ciò ok adesso tocca a Giovanni Giovanni ecco ti bello escluditi Giovanni allora bello dove vuoi andare in vacanza allora a me piacerebbe andare in un posto caldo ah quindi piano eh mi piacerebbe colai mi piacerebbe andare mi piacerebbe è aperta mi piacerebbe andare in un posto caldo sì quindi per esempio in sudamerica ah bello in brasile magari eh ci sono stato tre volte bella storia il brasile eh io sono stato una volta ah pogli anni fa ok ci puoi tornare e mi piacerebbe mi piacerebbe mi piacerebbe tornare 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 ok benissimo e dove ti piacerebbe tornare dove sei stato a Rio a Rio sono stato sì mi piacerebbe tornare a Rio ti piacerebbe tornare a Rio perfetto allora si trova un bel albergo vicino all'Arpador che è il posto uno dei posti più belli di Rio de Janeiro perché all'Arpador tu hai a destra tutta la spiaggia di Panema e a sinistra hai tutta la spiaggia di quella famosissima la spiaggia più famosa Copacabana Copacabana quindi perciò vai all'Arpador c'hai quello e c'è posto ok ok cari signori abbiamo fatto tutti l'esperimento giusto? no ci manca Isabella 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 la bella Isabella allora Isabella dove ti piacerebbe andare in vacanza o se tu volessi trasferirti dove vorresti andare a me piacerebbe a me piacerebbe in Canada a Montreal soprattutto perché lì ci sono dei miei parenti che non vedo da molti anni bene ottimo e vivono a Montreal yes esatto e a Toronto altri ma poi una volta che siamo lì magari una volta che siamo lì lentamente una volta che siamo lì muovi le labbra però eh lì facciamo un bel giro ecco bravo che distanzi tanto le labbra dalla matita perfetto allora mi sembra che abbiamo tutti quanti imparato l'esercizio della matita confermate matita 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 ce la facciamo una bella foto insieme così la postiamo allora fate un bel cheese ancora un'altra e castello ululì lupo ululà ok fatto benissimo allora abbiamo svelato anche il mistero di come si fa l'esercizio della matita nella maniera corretta d'accordo bene io vi saluto e nel prossimo video vi parlerò questo è molto importante vi parlerò di come si allena la ginnastica facciale per imparare anche ad articolare bene con la mascella e la mandibola d'accordo ci vediamo al prossimo video ciao ciao